attenzione treno in transito al binario 2 allontanarsi dalla linea gialla attenzione vietato attraversare i binari servirsi del sottopassaggio si rammenta che vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi il treno regionale 16 3 1 9 di trenitalia proveniente da bassano del grappa e diretto a venezia santa lucia delle ore 10 e 01 è in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma salzano robergano maerne di martellago spinea venezia mestre il treno regionale 16 3 2 0 di trenitalia proveniente da venezia santa lucia e diretto a bassano del grappa delle ore 10 e 01 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma tre baseleghe piombino dese resana cantelfranco veneto castello di goteco il treno regionale 16 3 1 4 di trenitalia proveniente da venezia santa lucia e diretto a bassano del grappa delle ore 9 e 29 è in arrivo al binario 2 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma piombino dese castelfranco veneto castello di goteco il treno regionale 16 3 1 5 di trenitalia proveniente da bassano del grappa e diretto a venezia santa lucia delle ore 9 e 29 è in arrivo al binario 3 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma salzano rovegano maerne di martellago spinea venezia mestre venezia porto da dove non si sbastica il conflitto un altro grado di mani di sottopassaggio attenzione e vietato a attraversare i binari servizio sbilla sotto passaggio spazzo 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 spazzo